Con la tua famiglia, ogni giorno è una storia diversa. Da oggi hai uno spazio per viverle tutte. Nuova Reloceanic. Multispace for Multistories. Simone Palombi, un'altra prestazione eccellente. Terzo gol in quattro partite, nella quarta in cui non hai segnato hai procurato il rigore. Penso che meglio di così per un giovane che poi all'inizio aveva anche avuto poco spazio. Credo che meglio di così non potesse andare. No, infatti come dici tu, meglio di così non poteva andare. All'inizio il mister aveva fatto determinate scelte e sono stato bravo io a farlo ricredere. Ho ripagato la sua fiducia, penso, quindi lo ringrazio per lo spazio che mi ha dato. Il mio apporto che posso dare alla squadra è questo, buttarla dentro ogni domenica. Quindi per ora sta andando bene e speriamo di continuare. Complimenti per il cinismo, perché a me sembra che ogni volta che ha una palla goal la metti dentro, penso che per un attaccante questa è la miglior dote che si possa chiedere. Sì, sta andando bene, perché comunque le occasioni in partita arrivano, poi devi essere bravo tu a metterla dentro. Per ora ogni palla che ho toccato è andata dentro. So che arriveranno anche altri momenti difficili, quindi per ora mi sto godendo il momento. Senti, parlando della partita, una terrenana che non era partita benissimo, due pali nei primi minuti del Brescia, poi avete preso le misure agli avversari, credo che nel secondo tempo il risultato poteva essere anche addirittura più ampio. Sì, non siamo partiti nel migliore di modi, loro hanno presi due legni, quindi siamo stati un po' disattenti. Poi abbiamo trovato il vantaggio nel secondo tempo, comunque quando trovi il vantaggio è tutto più semplice. Potevamo chiuderla, perché abbiamo avuto le occasioni per chiuderla. Abbiamo sofferto un po' nel finale, ma com'è giusto che sia, avevamo una squadra forte e ben collaudata, quindi era anche prevedibile che soffrivamo un po', però abbiamo portato a casa questi tre punti che sono fondamentali. Ti ha mandato in porta Venatti nell'occasione del gol, poco dopo hai ricambiato mandandolo in porta, purtroppo non è arrivato il 2-0, c'è un buon feeling tra voi due in campo, almeno sembra. Sì, Felipe è un ottimo giocatore, davanti cerchiamo di fare il meglio per la squadra, poi una volta segna lui, una volta segno io e basta che la squadra poi porta a casa i tre punti. Volevo ripagarlo per l'assist che mi ha fatto, peccato per l'occasione che ha avuto, sicuramente domenica prossima la butterà dentro. Senti, una terrenata che sembra neanche la lontana parente di quella che vedevamo fino a un mese fa, che è successo? La squadra è sempre la stessa, le motivazioni sono sempre le stesse, poi ci sta un periodo, vai male, non trovi la via del risultato, la via del gol, quindi da quei momenti poi ci siamo fortificati, siamo andati avanti fino ad arrivare a queste tre partite, che penso portare a casa sette punti con tre squadre che comunque lotteranno per i play-off, o comunque per il titolo, sono state prestazioni da grande squadra. Radossalmente è venuta fuori la terrenata proprio contro gli avversari più difficili? Sì, all'inizio faticavamo un po' a prendere sia le misure, ma anche all'approccio alla partita, sono arrivati parecchi golli nei minuti iniziali, ma anche nei minuti finali, quindi mancava un po' di attenzione, ora l'abbiamo trovata e siamo contenti. 25 partite al termine, Simone hai un obiettivo a livello di numero di golla? Al mio obiettivo ogni stagione è quello di raggiungere la doppia cifra, per ora sono a quattro con il gol in Coppa Italia, quindi la strada è lunga, ci sarà da lavorare, ma spero di raggiungere l'obiettivo. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.